Ciao a tutti, questa è la nuova sezione del canale, un'italiana a Barcellona. Si tratta di vlog in cui vi racconterò le attività che svolgo qui in città e in giro per la Spagna. Vi porterò a concerti, visite a musei, feste patronali e alle escursioni fuori di città. Grazie a tutti. Spero vi piaccia, vi aspetto numerosissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.